Cani in mostra, attore del greco. Si è tenuta ieri presso il centro addestramento cinofilo Vesuvii Canes un'esposizione cinofila ammatoriale di tutte le razze. Tante le partecipazioni. I presenti hanno potuto ammirare alcuni fra i migliori esemplari della nostra città ed il profondo legame che li unisce ai loro amici a due zampe. Presenti alla premiazione anche l'assessore con delega alla tutela degli animali Anna Rita Ottaviano e la consigliera comunale Carmela Pomposo. Buonasera a tutti, vi portiamo i saluti del sindaco Giovanni Palomba e vi ringraziamo per la presenza qui a Torre del Greco. Grazie soprattutto agli organizzatori, questi cani sono meravigliosi, sono bellissimi e complimenti anche a voi che siete i padroni perché vedo che siete in perfetta sintonia. Quindi per noi è un orgoglio avervi qui, tra l'altro io sono l'assessore al benessere animale e la mia consigliera Carmela Pomposo di riferimento che anche lei sul territorio fa tanto, ci siamo dedicate tanto a questa nuova delega. Quindi buona serata e grazie per la presenza. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie, grazie.